E sarà fissata per il prossimo 14 luglio l'udienza preliminare per l'omicidio stradale di Alessio Esposito, il 26enne di Pratola Pelinia che ha perso la vita il 19 aprile dello scorso anno a Raiano sulla strada provinciale 11, sul banco delle imputati un 84enne di Pratola Pelinia, conducente della Golf per il quale la procura della Repubblica di Sulmona ha chiesto rinvio a giudizio dove aver confermato le accuse a suo carico con la chiusura delle indagini preliminari. Sulla tragica vicenda il magistrato aveva ordinato una doppia perizia, quella cinematica svolta dall'ingegnere Marco Colagrossi aveva accertato che fermo restando il superamento dei limiti di velocità della moto, l'automobilista ha indagato e ha svolto una manovra di immissione non perfettamente effettuata, in particolare non conforme a quanto disposto la codice della strada, per aver creato il pericolo che poi ha portato a sinistro per aver effettuato la manovra dal centro dell'intersezione anticipandola leggermente, come dimostra la posizione statica finale del veicolo. Inoltre era stato ricostruito che la manovra di immissione dell'autovettura effettuata in continuo è iniziata a meno di un secondo dall'urto, quindi non ha lasciato alcuna possibilità a esposito di evitare l'impatto. Il nesto di casualità tra l'incidente e il decesso è emerso dall'atopsia svolta dall'anatomo patologo Ildo Polidoro, secondo il quale sinistro deve essere considerato causa unica ed esclusiva della morte della persona offesa, negativi gli esami tossicologici, dal canto suo l'anziano si era difeso spiegando di non aver avuto la possibilità di calcolare gli spasi per essersi visto piombare la moto sull'arteria stradale. Per questo gli investigatori avevano svolto anche verifiche e accertamenti sulle modalità di rinnovo della patente di guida l'automobilista 44enne, viste alcune problematiche legate all'età. Il prossimo 14 luglio il giudice Francesca Pinacchio deciderà se mandare o meno a processo l'anziano come richiesto dalla procura. Resta intanto il dolore per il calciatore parrocchiare di 26 anni, la cui morte a distanza di un anno continua a bruciare dentro.